Giornata storica per la città di Nola ed in particolare per Piazza d'Armi. L'area che fino a ieri ha ospitato il mercato infrasettimanale, da oggi cambia volto e si appressa ad accogliere lavori che le daranno una nuova immagine. Stamattina cerimonia della posa della prima pietra nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'area acquisita finalmente dall'amministrazione comunale d'Aldemanio dopo anni di attesa. Si tratta di un risultato salutato dal sindaco Carlo Bonauro con grande entusiasmo. La storia innanzitutto è quella di questa città, una città straordinaria, una città millenaria, le cui origini si affondano nell'età del bronzo, una città che ha attraversato tutte le epoche, greco, romana, preromana, poi medievale, poi Giordano Bruno, poi il Rinascimento. È una città davvero piena di talento, piena di bellezza, piena di meraviglie e la storia in qualche modo in questo posto, come ricordavo, si era fermata nel tragico evento del 43, l'11 settembre, quando prima tra le stragi legate all'armistizio della Seconda Guerra Mondiale vennero qui trucidati militari e civili cui i nolani dettero con misericordia sepoltura. Da quel momento la piazza è stata in qualche modo in letargo, in un dimenticatoio, diventando un utile contenitore di servizi per la città, ma in maniera non soltanto illegale, questo rileva fino a un certo punto, ma anche precaria. E talvolta ci si abitua anche alla precarietà, all'abbandono. Invece la sfida nella piccola storia che noi stiamo cercando di invertire e di riqualificare questo spazio, da un lato mantenendo la memoria, il progetto valorizza quell'evento ricordando gli assi lungo i quali i due eserciti andarono a confliggere, ma soprattutto rendendola un polo culturale a servizio della città, perdendo qualche servizio importante come il parcheggio, il mercato che stiamo cercando di ottimizzare nella dislocazione, ma cercando come le grandi capitali europee o le grandi città europee di dare a Nola un polo culturale dove l'associazionismo così forte potrà davvero svilupparsi. Un progetto partito nel 2015 con l'associazione Movimento Piazza d'Armi, presieduta da Alberto Ruggero, che in questi anni ha affiancato le varie amministrazioni nelle fasi progettuali. Siamo qui oggi a testimoniare un percorso veramente lungo. Siamo partiti nel lontano 2015, nel 2016 abbiamo creduto che quest'area potesse diventare un'area riqualificata. Era difficile perché è un'area che nasce nel 1750, area destinata ad esercitazioni militari, antistante una caserma, ancora di Maniale, ai noi, però devo dire la verità, ci abbiamo creduto, è stato un sogno ad occhi aperti e dal 2016 oggi una serie di attività di cui siamo stati sicuramente protagonisti, abbiamo affiancato le amministrazioni anche in modo tecnico attraverso il lavoro costante dei nostri architetti che hanno addirittura dopo un lungo percorso nel giugno 2020 consegnato all'amministrazione e inviato al De Manio il primo piano di valorizzazione. Oggi chiaramente Nola è in festa, è in festa perché quello che sembrava appunto soltanto un'idea lungimirante prende inizio con una nuova pagina, una pagina che poi chiaramente quella della posa della prima pietra sarà per noi importante vigilare sul buon utilizzo dei tempi assieme ovviamente agli organi preposti. Noi come associazione siamo interfaccia tra cittadini e gli enti con i quali abbiamo sempre collaborato e continueremo a farlo anche perché Piazza d'Armi non è solo una piazza ma è il centro di un'idea più grande che comprende anche ovviamente la riqualificazione futura della caserma e anche degli spazi limitrofi per poi avere un'area urbanistica più integrale e integrata nel contesto cittadino e extraurbano. Tre i lotti interessati che nell'arco dei prossimi due anni subiranno un'operazione di restyling come ci spiega l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Carrella. Oggi è una giornata storica per Nola perché è stata acquisita Piazza d'Armi nelle proprietà comunali e la fortuna di Nola di avere una piazza così grande alle porte della città penso quando siamo stati a De Mano che questa sia una delle dieci piazze più grandi della regione campana perché in questa piazza potranno farsi eventi che Nola merita che possono farsi eventi del genere. Allora entrando nel particolare il progetto intero, il master plan completo è composto da tre lotti. C'è il primo lotto, questo oggetto oggi della posa della prima pietra che è finanziato da misure PNRR per 5 milioni e mezzo poi c'è un secondo lotto finanziato da risorse comunali che riguarda il completamento della piazza verso l'edificio poi intervallata tra la nuova strada che verrà creata per rendere l'accesso comunque a degli edifici che stanno dietro si sarà il terzo lotto che saranno i servizi a servizio stesso della piazza quindi su questo non possiamo ancora dare una data certa perché ci sono ancora da risolvere che riguarda il terzo lotto la parte di proprietà comunale quindi anche l'ex stadio e c'è da risolvere ancora il contenzioso che riguarda l'oggetto dell'ex museo di carta, del progetto del museo di carta pesta. Sul lotto 3 verranno realizzati i parcheggi e un parco verde attrezzato archeologico che comunque sarà annesso alla stessa piazza. Presente stamattina alla cerimonia anche il consigliere regionale della Campania Massimiliano Manfredi Bisogna chiedere scusa ai cittadini per aver aspettato 30 anni come mi è capitato durante la posta della prima pietra e adesso al completamento ad esempio della fogna di Piazzolla nove mesi dopo 20 anni di aspettative bisogna chiedere sempre scusa ai cittadini per aver aspettato un tempo non ragionevole per vedere questa città riappropriarsi della propria cultura, della propria storia e dei propri luoghi identitari e anche se i ritardi non dipendono da noi è giusto che chi amministri adesso lo faccia. Oggi è una giornata importante perché Nola si riappropria di quella che è una piazza che con l'eccidio del 43 e tutta una serie di vicende ad esso collegate rappresenta il punto di interconnessione ma anche della propria storia. Questa piazza però rappresenta anche un riappropriamento della legalità rispetto all'illegalità. C'eravamo abituati a vedere fare quello che non si poteva fare e per questo colgo anche l'occasione dai vostri schermi per dare un abbraccio forte al sindaco Buonauro alla sua famiglia, all'assessore Brucini anche per le ulteriori e ultime minacce che hanno ricevuto perché logicamente il cambiamento fa paura, dà fastidio e soprattutto che questa piazza ritornerà ad essere proprietà dei Nolani e non di qualcuno è una cosa che dà fastidio a chi l'ha potuta tenere in autogestione abusiva per troppo tempo. Noi cercheremo di fare un lavoro, come si vede dalla progettazione, che colleghi la realizzazione di questa piazza a quello che deve diventare un polmone verde e culturale della città. Questa è anche un po' la porta di coloro che entrano a Nola.